Pensare di acquistare olio novello, come dal contadino di paese, ma a 3,49 euro per tre quarti di litro, fa di me un italiano medio. Sentore di frutto appena franto, sfumature di amaro e fresca piccantezza, soprattutto se non è olio raffinato, sono gli elementi da far sondare al proprio palato per un insindacabile giudizio. D'altronde non essendo ancora stato inventato il teletrasporto, non dirà da un bel sentore di cisterna, magari da ex petroliera transoceanica, entra prepotentemente in pole position. Tenendo conto di ciò, il giusto compromesso tra il proprio palato e la propria tasca sarebbe non più un miraggio. Un candidato potrebbe essere questo olio extravergine grezzo miscela europea della Dante comperato in offerta al Lidl. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse evitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per l'advisione. Ciao.